brown the rocks join the club buonasera gentile pubblico di radio brown the rocks sta per cominciare il programma radiofonico montino is in the house forse il nostro viaggio porta un po più lontano tu sorridevi agli autovelox mi spedivi contro spedivi contro il pentagono i tuoierei pieni di armi e di beni materiali le parole d'amore delle centrali nucleari e tutti gli altri vietnam e per le trasfusioni vuoi la vernice rossa perché più coreografica quando mi hai detto che sono come l'era quando ti ho detto che sei come l'era hai deciso che sei lesbica e per pensieri sono spesso dello stesso materiale del cielo di milano sventonano dei fazzoletti bianchi dalle finestre quando passiamo per salutarci o perché si arrendono e tutti i nostri no dove vuoi che ci portino e neanche se ti pagano ma tanto non ti pagano e neanche se ti pagano ma tanto non ti pagano e neanche se ti pagano ma tanto non ti pagano e neanche se ti pagano ma tanto non ti pagano il motore eterno del nostro furgone le ombre rosse torno della tua voce era per rischiarare sulle puttane in via l'Europa ricominciava a devicare su questo sito di amore era per respingerti il mare per far vite in peste lente rappresaglie come tante utilitarie per conformarsi ad un certo modello di dolore per un malinteso senso del progresso per un difetto di fabbricazione nei cieli di regina cieli e nei negozi chiusi dove cazzo siete andati tutti i vostri sguardi che fondevano i metalli e camioniste addormentati subi noi ai centodieci nubi fragili tra le tue cili e il guardrail come vorrei i tuoi fuochi artificiali, le tue cazzo di canzoni commerciali ci troveremo davanti ai nostri muri dei pianti oppure uccisi da Putin e quanto costa i tuoi amici che si contano sui petali di quei fiori che quando soffi si visfano gli aerei per Palermo fermi a prendere freddo i 10 grammi nel tuo reggiseno i pescherecci che non tornano quei lunghi mesi immobili i santi raccoglitori di pomodori, le bombe al fosforo quei momenti che respiravamo forte come se stessimo correndo come per commemorare i tuoi capelli lunghissimi i lavori irregolari, i militari, i ragnani, i tramonti che hanno dei colori chimici i detenuti morti, i venti forti dei deserti libici i venti che incendiano i campi nomadi le meteoriti, le navi ferme immobili tra l'Italia, Malta e la Libia i primi fai antinevie le nostre ultime bufere e violente le guardie notturne che vanno a dormire non c'è niente da capire non c'è niente da capire Vasco Brondi e le luci della centrale elettrica per iniziare questa puntata di Mountain is in the house questa era per respingerti in mare iniziamo così una canzone non allegra però ci stava perché questa settimana mi andava di mettere le luci per vari svariati motivi benvenuti, bentornati, anzi ben arrivati qui su Radio Brown The Rocks 20.07 martedì 6 dicembre 2022 siamo agli sgoccio di questo 2022 mentre arrivavo in radio ho sentito una bolgia di ragazzi erano tutti ragazzi marocchini che festeggiavano il passaggio del turno contro la Spagna un risultato epico sono stato molto contento perché mi hanno fermato e abbiamo fatto un po' di festa insieme comunque se mi seguite già sapete quale sarà l'ospite di questa serata sono molto contento l'ho pubblicizzata dicendo che sarà una puntata che farà bene al cuore ed effettivamente sarà così perché questa sera insieme a me scusate intanto la voce sono un po' malato però mi perdonerete anche perché questa sera vi porto veramente una puntata super e vi presento Claudia benvenuta ciao Claudia ciao ciao buonasera come stai? mi senti bene? io ti sento bene sì ok sì sì ti sento bene perfetto regoliamo i volumi così ci sentono tutti in maniera ottimale perfetto allora benvenuta su Radio Brown The Rocks io sono molto contento di di averti ospite anche se non siamo in presenza ma siamo via telefono perché qualche settimana fa ho per caso trovato un articolo che parlava di te e mi ha incuriosito molto sono andato a spulciare un po' quella che era ho detto ma chi è questa Claudia? chi sarà Mike? perché ha fatto questa cosa qui? e allora poi ti ho scritto e ci siamo organizzati ed eccoci qua sì 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 grazie grazie per questo invito io sono sempre come posso dire contenta di condividere la mia storia quindi ecco ci sono sono qui sono piena di voglia di raccontare allora partiamo partiamo da quello che ho letto io e quello che mi ha attirato saranno anche bravi i giornali a mettere i titoli però mi ha colpito a sto giro Claudia lascia la vita della poliziotta per diventare pagliaccio partiamo dal passato partiamo da te da quando sei da te ragazzina quali erano i tuoi sogni da ragazzina e come sei arrivata a fare eri nei carabinieri o polizia questa cosa mi è sfuggita no no ero nella polizia perché quando sono entrata comunque solo nella polizia sì c'erano potevano entrare le donne quindi comunque io la polizia di staff non era un mio sogno e nemmeno essere un clown era tra i miei sogni di bambina quindi la vita è proprio cioè è vero è vero proprio che della vita non si sa quello che accadrà noi pensiamo per pianificare in realtà poi le cose cambiano durante il percorso no cosa volevi fare da piccola allora io sogniamo di diventare una scrittrice e se non potevo scrivere comunque mi piaceva tanto dipingere erano due cose bellissime e soprattutto dipingere mi piaceva tantissimo proprio tanto tanto disegnare dipingere eccetera poi durante gli anni ho fatto altri studi perché mio padre ha voluto che io facessi liceo classico e quindi diciamo che è stata la prima infrangendo i tuoi sogni di liceo artistico immagino certo infatti è stata la prima volta che mio padre ha iniziato a infrangere i miei sogni ma capisco oggi che insomma non era tanto infrangere i miei sogni ma cercare di darmi una direzione differente più cosciente dal punto di vista culturale ecco di questo si trattava e ha avuto ragione poi alla fine è andata bene così comunque io non avevo in progetto nessuno delle due professioni né essere pagliaccia né essere una poliziotta assolutamente però mio padre era poliziotto io feci il concorso nel 1988-89 e lui era ancora vivo poi lui nel frattempo siccome era malato alla fine insomma se ne è andato via però in questo periodo qui dopo che lui andò via io vinsi anche i test attitudinali e quindi mi presero in polizia non eri ancora diventata poliziotta quando tuo padre era in vita no anzi gli avevo proprio detto guarda io non ci voglio andare perché voglio andare a Londra a studiare inglese voglio studiare scienze politiche e diventare una giornalista questi erano i miei sogni e invece lui insomma se ne è andato via prima anche io potessi realizzare tutti i miei sogni eccetera quindi quando io mio padre è morto io avevo 19 anni avevo due sorelle e mia mamma aveva 44 anni era giovane quindi insomma mi dice mi fa un discorso proprio da da adulta no quindi mi dice guarda Claudia che se tu vuoi studiare insomma forse è il caso che accetti questo lavoro perché comunque è un lavoro e tu con i tuoi soldi puoi fare quello che ti piace quello che tu vuoi e io dissi ok va bene perché sentivo dentro di me che era giusto perché era sano questo io non potevo stare a casa con mia madre che aveva la pensione di reversibilità con due sorelle era proprio non era possibile no io volevo anche essere molto indipendente perché da quando sono piccola voglio da quando ero piccola io sognavo l'indipendenza della donna essere libere io ero già abbastanza combattiva quindi destinata a quello che poi è successo ma poi ci arriviamo sì 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 certo ho fatto tutto un percorso sono stata nella stessa scuola di di formazione della polizia a Trieste dove è stato mio padre anche quindi in realtà ho un po' rivissuto delle tappe sue e poi sono tornata a Roma dopo la scuola quindi ho fatto vari servizi in polizia mi sono specializzata poi in informatica eccetera ma non ero felice è inutile cioè non ero contenta non ero felice sentivo che il mio fuoco dentro non si era spento e che stava divampando sempre di più così diciamo che disperata parlando con un'amica dico io non sono felice non va bene così avevo avevo 23 anni 24 già stavo in polizia da diversi anni perché io nel 1990 già stavo in polizia quindi molto molto giovane e quindi questa ragazza mi dice una mia ex collega che anche lei non voleva stare lì in polizia una collega della polizia quindi anche lei eravamo giovanissime perché tutte quante avevamo fatto il concorso per i mondiali avevano indetto questo concorso perché c'erano i mondiali del 1990 e quindi eravamo tanti 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 giovani infatti io mi sono anche ho vissuto anche degli anni in polizia dove comunque mi sono divertita in che senso che nei turni eravamo giovani tutti avevamo 21 23 24 anni insomma io mi sono stata bene non è che sono stata male però non era il mio posto non era quello il mio destino quindi spinta da questa sorta di infelicità vado alla ricerca di una scuola di teatro e la trovo ma per caso perché vado a Vienomentana c'era la scaletta diretta da Diodaiuti un vecchio professore di teatro quel giorno faccio cioè vado lì so che c'era questa scuola e vedo che c'era tanta gente io non masticavo il teatro nel senso che era l'ultima ti ho perso un attimo fosse adatta a me ti ho perso un attimo niente dicevi era l'ultima era l'ultima cosa che pensavo fosse adatta a me il teatro la scena il parco scenico quindi a un certo punto mi chiama questo signore anziano che non sapevo chi fosse parliamo 40 minuti mi fa una specie di audizione sui miei principi su quello che volevo i miei sogni eccetera poi mi dice bene hai finito l'audizione ti prendo a scuola e io dico ma come l'audizione ma io non ho preparato nulla no no forse non hai capito l'audizione è questa perché tu sei una sgobbona mi ha detto e siccome in teatro per riuscire bisogna sgobbare tu sei adatta e aveva ragione io sono una sgobbona ancora oggi lungimirante quindi quindi niente sì ma lui aveva ragione era molto una persona molto intelligente comunque inizio a fare la scuola mi formo il canto il mimo la recitazione la tradizione tutto non c'è tutto però faccio anche degli spettacoli ma non ero felice niente non c'era nulla da fare non era contenta non volevo stare in politica perché sentivo che non era il mio posto pur avendo trovato tutte persone che poi comunque mi sostenevano e parteggiavano per me quindi non è che ho trovato ostacoli in un ambiente ostile ma per nulla era una tua cosa interiore sì era proprio sentivo che non poteva finire così dai la vede una sola basta poi sai nel tempo ci sono state 17 anni in polizia le mie sorelle sono cresciute mia mamma comunque stava bene quando ho visto che era impossibile lasciarlo questo lavoro l'ho fatto che è successo quindi una mia amica nel frattempo conosco il mio ex marito che si dedicava a scrivere dei testi per comici e quindi inizio a scoprire che esiste la comicità il varietà il cabaret e tutte queste cose in questo ambiente un'altra ragazza a me tutte le donne mi hanno traghettato dall'altra parte un'altra mia amica mi dice Claudio devi conoscere Django Edwards perché ti cambierà la vita mi devi credere devi conoscere quest'uomo è un clown devi conoscere Django io dico poi io non lo voglio fare il clown a me non mi interessa e lei mi dice guarda non è altro clown devi conoscere quest'uomo e quindi mi segna un corso in Francia una masterclass di 15 giorni e la faccio parto sapendo che era l'ultima cosa che facevo di true clown perché non mi interessava come ho capito e sono arrivata lì io ho fatto i primi due giorni ed ho capito solo la portata la magnificenza e la grandezza dell'essere clown non ce l'ho più fatta e ho capito questo è quello che io voglio fare cioè io l'ho trovato finalmente ho trovato perché finalmente mi sentivo vita sono tornata a Roma mi sono prosciolta e ho iniziato il mio viaggio alla ricerca del naso rosso ok è stata la cosa più bella ti interrompo un attimo così intanto riprendi fiato e poi parliamo del dopo questa esperienza e ascoltiamo una canzone di un artista che si chiama Selly che si chiama proprio naso rosso che io ho trovato girovagando sul web e quindi diciamo che un po' in qualche modo tutto torna lei è Selly questo è il naso rosso su Radio Brando e Rox Chi ci insegna a ridere quando ci mostrano come non essere tristi chi ci educa a vivere stando immobili come i migliori infissi chi ci spiega il valore dei sogni se ci raccontano che succede quando dormi chi ci spiega la bellezza dei piccoli gesti se l'apparenza incombe sui sentimenti tra le piccole cianfrusaglie raccogli una rosa e bella ma mi racconti quanto è secca ma mi racconti quanto è secca e tra le piccole cianfrusaglie raccogli una rosa e bella ma mi racconti quanto è secca ma mi racconti quanto è secca e così rimani nascosto quando potresti mettere in mostra ogni tuo pregio ogni tuo pregio chiamami filosofo dell'emozione ne ho meglio ancora giocoliere della vita ma sai con l'arcobaleno la tempesta dal sole si è sentita tradita tra le piccole cianfrusaglie tra le piccole cianfrusaglie raccogli una rosa e secca ma mi racconti quanto è bella ma mi racconti quanto è bella e tra le piccole cianfrusaglie raccogli una rosa e secca ma mi racconti quanto è bella ma mi racconti quanto è bella ed infine se vuoi non esistono limiti puoi arrivare oltre il cielo e sui confini ed in fondo se sorridi al passo coi brividi sei partito fino alla fine selli naso rosso su radio brown the rocks chiude la canzone dicendo sei partito e noi siamo eravamo rimasti alla masterclass che claudia ha fatto nel 2005 da cui è iniziato tutto da cui è partita tutta la sua la sua storia perché c'è un prima e un dopo la masterclass come avanti cristo dopo cristo tu hai avanti masterclass e dopo masterclass mi sembra di aver capito sì infatti infatti vedo che il naso rosso e la comicità sta arrivando anche lì via etero via aerea senti allora io ero rimasta e la cosa importante che voglio dire non è stato un qualunque clown a sollecitare questo cambio è vero che io lo cercavo tantissimo tanto 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 ma la personalità particolare anche di Django di Django Edwards perché perché io oggi posso dire che se avessi conosciuto un altro clown non avrei potuto avere quella spinta ricevere quella spinta energetica forte di convincimento di convinzione forte per poter fare il passaggio che poi ho fatto questo è proprio un elemento chiave quindi l'importanza di trovare le persone adatte al momento giusto e l'importanza di essere pronti aperti e prepararsi cioè non è che il cambio si fa perché è un miraggio di agolo i cambi si fanno perché si vogliono perché ci si lavora perché ci si prepara perché poi quando arriva al momento giusto si è pronti e preparati per poterlo fare quindi ci si deve rimboccare le maniche lavorare prepararsi e il cambio arriva cosa ha avuto lui cosa ha lui in più degli altri secondo te innanzitutto innanzitutto è un clown che cambia sempre ci sono differenti clown come per esempio Charlie Chaplin era sempre lui nelle varie avventure Django invece è tanti personaggi può fare lui la sua essenza resta vera del clown però può interpretare diversi ruoli questa è la prima cosa il fatto che sia come posso dire ricco di cambiamenti quindi questa è la prima cosa la seconda è il carattere è la forza di Django la capacità di veramente di trasportare di poter trascinare le persone verso il cambiamento io non sono l'unica persona che è cambiata grazie all'incontro con quest'uomo io sono una delle tante è chiaro che il cambio che ho fatto è stato forte è stato fortissimo però comunque lui è stata una persona con una forza e un carisma talmente forte è un grande un grandissimo clown un grandissimo maestro io sono molto felice sono stata fortunata ed è vero quello che ha detto la mia amica vedrai che ti cambierà la vita e così è stato ma non me l'ha cambiata tu rientri a Roma e poi cosa succede? io rientro a Roma parlo con il mio ex compagno e gli dico io non ce la faccio più non posso più la vita è breve purtroppo è breve nel senso che la coscienza la consapevolezza che acquisiamo a volte si acquisisce troppo tardi rispetto al tempo della vita ecco almeno io penso questo e gli ho detto io voglio vivere voglio realizzare il mio sogno voglio essere felice non voglio essere una persona che passano gli anni io muoio infelice perché so che non ho fatto quello che dovevo fare e lui mi ha detto va bene senti lascia il lavoro non c'è problema ci rimbocchiamo le mani che io ti aiuto però fai quello che tu vuoi perché l'arte lui dice ti insegue l'arte insegue non c'è niente da fare quindi quando sei toccato dalla passione dell'arte non è possibile poi far finta che non c'è perché sei un dannato sai che c'è e sai che cosa vuol dire e quindi niente devi farlo lo devi fare per forza così io l'ho fatto e sono partita prima in Francia per per lavorare con Laura Herz che è una clown una pagliaccia americana ma vive in Francia bravissima e ho fatto un anno facendo Roma Montpellier prendevo il treno la notte arrivavo in Montpellier la mattina insomma ho fatto tanti tanti viaggi un po' faticosi per formarmi e questo è stato in Francia poi dopo sono andata e nel frattempo sono tornata a Roma ho creato due numeri però di satira politica con dei colori clown uno era un numero sulla morte e l'altro era Condomisa Rice che era un numero sempre di satira sociale e politica che scrivevi tu non contenta scrivevo io avevo delle idee nel testo se c'era un testo lo scriveva il mio ex compagno ok e quindi io alla fine dico non è possibile che non vedo più Giango perché nel frattempo io non ero mai dimenticata dell'incontro con quest'uomo che è stata che è stato proprio sai l'acqua che ha fatto tra la goccia che ha fatto traboccare il vaso uguale quindi niente vado a Barcellona sono vengo accettata a una scuola di Mimo di Barcellona che è La Moveo Mimo de Cru e so che Giango stava a Barcellona lo contatto lo cerco disperatamente e lo trovo a Barcellona cioè riesco a trovare dove abita ma come sai il cane da tartufo uguale non sapevo neanche il numero civico lo becco lo trovo mi dico senti io ho qui un video con due numeri voglio che tu li veda lui mi dice vieni domani sera intanto lasciami il video e torna domani mi chiama mi dice vieni qua ti devo parlare vado mi dice senti Claudia sai che cosa penso che tu puoi sviluppare un tuo spettacolo era agosto mi dice torna a settembre portami due numeri nuovi io ti faccio la regia del tuo nuovo spettacolo che non sapevamo che cosa era questo spettacolo ancora non lo sapevamo sta di fatto che io torno mi invento la morte del cigno la cantante lirica altri due numeri che lui mette a posto pulisce eccetera poi va a dormire ancora mi ricordo che io tornai settembre ottobre a novembre un giorno di pomeriggio si guardava sono stacco vado a dormire dorme si rialza e mi dice ho fatto un sogno dico davvero ho sognato il tuo spettacolo che si chiamerà zero zero clown cioè una pagliaccia che sogna di diventare un agente segreto cioè il contrario di quello che io nella vita ho fatto in pratica certo geniale e quindi sì bellissimo sviluppiamo questo primo spettacolo difficilissimo per me perché io sì avevo fatto formazione ma il clown non si forma in una settimana in un anno il clown si forma con la vita è come il vino quello vecchio che diventa più buono col tempo uguale sì e quindi niente da là poi ho iniziato a lavorare con lui a stare con lui sul palco e nel frattempo prima di diventare una clown abbiamo fatto un sacco di esperienze tra cui master reiki osho di tutto e di più quindi che facevo io facevo il reiki facevo il reiki a Django che stava già non stava bene e quindi facendo il reiki che è appunto questa diciamo è una guarigione fatta con le mani diciamo e lui mi dice senti Claudia io so che tu fai anche meditazione dice perché domani non vieni ad aprire il mio corso sul clown dico ma come io non so non so cosa fare come non sai cosa fare vieni fai la meditazione le meditazioni di osho e poi fai un po' di reiki io vado e riesco a fare due ore di lezione di riscaldamento per arrivare poi all'essenza del clown al lavoro che si fa nei primi tempi in cui si diventa clown che lavori molto sulle percezioni la sensorialità il sentire chi sei l'essenza eccetera e da là ho iniziato anche ad aprire i suoi corsi non contenta però ho detto non va bene voglio imparare ad avere dei corsi miei personali dove sviluppo una metodologia mia mi sono insegnata alla scuola di arteterapia e ho sviluppato un nuovo metodo mio proprio mio personale adesso ti interrompo così dopo dopo ci racconti quest'altro step della tua vita ora Cesare Cremonini che in una delle frasi più belle della mia vita mi hanno chiesto che sai fare so far ridere la gente meno male sono stato anche normale in una vita precedente mi hanno chiesto che sai fare so far ridere la gente meno male che non ha fatto il militare sì meno male sai che risa a te c'è chi non conosce Dante che c'ha tutto da imparare chi è felice quando piange che si veste da soldato a carnevale io mi nascondo tra la gente sia carnevale non so che fare tu vestita da bambina prigioniera vuoi scappare da una perfida regina così seria da star male non so dirti una parola non ho niente di speciale se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare se mi lancio in un'aiuola casco e non mi faccio ma è l'occhio di te ma ti piange il cuore sei così bella ma vorresti morire sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata so perché ti sei svegliata si rincorrono i ricordi come cani in un cortile tu nemmeno te ne accorgi come un confesso vorrei farti innamorare ma ti prego non andare se puoi rimani fino a domani qui vestita da bambina prigioniera vuoi scappare da una perfida regina il tuo principe il tuo principe è mortale può subirti una parola non ho niente di speciale ma se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare se mi lancio in un'aiuola casco e non mi faccio e l'occhio ride ma ti piange il cuore sei così bella ma vorresti morire sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata chissà perché ti sei svegliata chissà oh Il mondo ride se mi piange il cuore, sei così bella ma vorresti sparire In mezzo a tutte queste facce, come se con te sparisse anche il dolore Senza lasciare tracce, nell'occhio ride ma ti piange il cuore Sognavi di essere trovata, su una spiaggia di corallo, una mattina dal figlio di un pirata So perché ti sei svegliata So perché ti sei svegliata Cesare Cremonini, il comico su Radio Brown The Rocks, questo è Montino Is In The House Siamo sempre in diretta con Claudia che ci sta raccontando la sua fantastica storia La sua evoluzione, la sua ricerca continua E siamo arrivati al punto in cui lei ha capito qual è la sua via Inizia a percorrere la via dei clown ma non è ancora soddisfatta Le manca un pezzo, quindi torna in Italia e dice Sai che c'è? Io devo fare un'altra cosa che adesso ci racconta Eccoci qua Mi senti? Sì eccomi, ogni tanto ti perdo Ok tranquillo Allora Quindi niente, torno in Italia Lascio definitivamente il lavoro Creo due numeri Mi incontro con Django E Django decide di farmi la prima regia del primo spettacolo chiaramente E riesco a creare il primo spettacolo Poi ne creo altri tre Tre soli Che uno è Iaia sulla Luna Che è uno spettacolo poetico Un altro si chiama L'alloggio segreto Che si ispira alla vicenda di Anna Frank Cioè è una ragazza che scappa perché è perseguitata durante la guerra Sempre in clown, senza parole E poi l'ultimo che è Joker Joker demiurgica femminina dell'occulto Cioè un Joker donna Che ci racconta della violenza sulle donne In chiave diciamo comica Anche un po' tragica Ci sono dei momenti tragici Ma questo perché si possa ridere Dobbiamo parlare di tragedia Non possiamo solo far ridere E basta Noi ridiamo di cose Di punti di riferimento Noi ridiamo quando rompiamo La struttura Quando noi colpiamo Ciò che può essere Un punto di riferimento L'autorità Quindi noi dobbiamo ridere E dobbiamo avere dei punti di riferimento Di che cosa vogliamo ridere noi? Cioè le persone Perché il clown è importante? Perché un pagliaccio è importante? O perché la funzione del clown è importante? E qual è? È questa Cioè poter ridere Poter far ridere le persone Di cose che normalmente sono tragiche E che non possono essere vissute O transitate attraverso emozioni quotidiane Da parte delle persone Quindi ci siamo noi per questo Ci stanno i comici Ci sono i pagliacci Ci sono i clown I buffoni I buffoni di corte E così via Che attraverso la nostra arte Noi praticamente Diciamo che trasciniamo Le persone In mondi Dove praticamente È possibile Vivere cose Che normalmente Non sono Non sono possibili Non sono accettabili Ecco Quindi questa è la nostra funzione Che è sociale Ma anche È una funzione importante Non dico terapeutica Ma per esempio La clown terapia in ospedale E così via Ci sono tantissime Tantissime funzioni Che appunto Il clown Realizza Attraverso la sua arte Quanto è difficile Quanto è difficile Farsi prendere seriamente Facendo ridere Ma Allora Può essere difficile Come possono essere difficili Tutte le cose Della vita Nel senso che Questo lo dico adesso Che ho fatto dei percorsi Perché Se ti avessi risposto Qualche anno fa Ti avrei detto È molto difficile Soprattutto per una donna Ok È difficile Ma perché è difficile? Perché noi abbiamo Mentre stiamo in scena Un Noi ci osserviamo Noi ci giudichiamo In realtà Quindi per far ridere Perché è così difficile? Perché noi dobbiamo essere Persone capaci di evitare Di giudicarci Mentre facciamo ridere Su delle cose Che non sono Accessibili Oppure Ridere di alcune cose Che sono dei tabù Ridere di alcune cose Che invece sono pietate E proibite Nel parlarne Nel parlarne Oppure Ridere di cose Che sono dolorose Quindi Questa è la difficoltà Ma I clown Fanno tutta una formazione Particolare Per essere pronti E la formazione Di un clown Non è solo tecnica Ma è anche una formazione Personale Di crescita personale Perché? Perché il linguaggio Del clown È un linguaggio Basico In clown Noi lavoriamo Sulle quattro emozioni Basiche Quelle dei bambini Cioè le emozioni Culturali Non esistono Cioè la paura L'allegria La rabbia E la tristezza Quattro Quando un bambino Si arrabbia È triste O è allegro Non ci sono Vie di mezzo Quella emozione Lui la esprime Così com'è Ok? Nei vari gradi E così siamo noi clown Se dobbiamo piangere Piangiamo Se ci arrabbiamo Ci arrabbiamo E non ci importa Se questo fa bene Risulta Politicamente corretto O no Perché non siamo lì Perché noi Non abbiamo Questo tipo di giudizio Noi siamo Come dei bambini Che fanno arte Sul campo Dell'innocenza Cioè Vuol dire che noi Immagina un bambino Che Visto i bambini Di due anni Che certe volte Le mamme Gli tolgono il costume E stanno nudi Sulla spiaggia Ok? Quel bambino Quel bambino Cammina Cammina nudo E non si crea Il problema Se è nudo o no Chi ce l'ha il problema? Gli altri Gli adulti Ok? E così è un clown E questa è la mentalità La mentalità del clown E la mentalità E lo sguardo poetico Della vita Cioè Mettere in evidenza Belle Diciamo Trasformare Quegli aspetti negativi Della vita Della società Trasformarli in qualcosa di bello Trovare la bellezza In ciò che Normalmente Non appare No? Nelle cose che sembrano Non essere belle Per esempio La strada di Fiellini Quando Giulietta Masina Fa il clown Se noi Analizziamo quel film Quel film è durissimo Quel film è durissimo Però noi Riusciamo a viverlo Attraverso gli occhi Di quella bellissima clown Così innocente Che vede tutto con poesia E questo è il clown E questo Questo è Nulla di Io penso che In questa società Così Fatta in questo modo Strutturata in questa maniera Così anche Come posso dire Un po' narcisista Uno sguardo del genere Invece ci ricorda Che siamo umani E che quello che conta È l'empatia Lo stare insieme La condivisione Questo che succede Succede anche questo Che quando un clown è in scena Perché si ride? Si ride perché Quando noi rompiamo i tabù L'angoscia che noi sentiamo Ok? Culturalmente parlo È così grande Che Noi possiamo solo Accettarla E affrontarla Attraverso la risata Ok? Quindi un clown In realtà È come una marionetta Ok? È lo stesso La nostra psiche Fa lo stesso processo Cioè Sulla marionetta Noi proiettiamo Le nostre parti E vediamo fuori Qualcosa di noi Questo tutto a livello Inconscio Inconsapevole Però la marionetta Ma la marionetta Fa delle cose Si muove Pulcinella Che viene presa a botte Col diavolo Eccetera Io mi ricordo Queste prima marionette Quando ero piccola E io vedevo il diavolo E pulcinella Che faceva botte Con il diavolo E così Erano tutte parti mie Erano parti Che avevano bisogno Di essere Vissute Non potevo farlo Perché mica potevo Prendere a botte Mia sorella Cioè Era chiaro Però Vedendolo fuori Io mi divertivo tanto Era come se Rimodulassi La mia interiorità E così fa il clown E così fa il clown Il clown Fa cosa che gli altri Non fanno Ci fa ridere Come le affronta La maniera in cui Le affronta E mentre noi Guardiamo il clown Noi rimoduliamo Il nostro inconscio E il nostro modo di stare Nel mondo Quindi in questo senso Il clown Ha una funzione Importante Di rimodulazione Della persona Dell'individuo Ma anche della società Perché non ci dobbiamo scordare Che in tutte le tribù Primitive In tutte le culture Di tutti i tempi C'è sempre stato Un buffone Si chiamano Buffoni sacri Tant'è Che questo fenomeno Del buffone sacro Ha preso il nome Di Claunismo rituale Esiste un bellissimo libro Proprio che parla di questo Tra poco mi racconti Dell'arte terapia Adesso La canzone Che hai scelto tu E dopo mi dici Anche perché l'hai scelta Questa è Smile Smile Though your heart Is aching Smile Even though It's breaking When there are Clouds in the sky You'll get by If you smile So you'll feel And sorrow Smile Or maybe tomorrow You'll see the sun Come shining through For you Light up your face With gladness Hide every trace Of sadness Although a tear Maybe ever so near Maybe ever so near Maybe ever so near That's the time You must keep on trying Smile 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 What's the use What's the use Crying You'll find that life Is still worthwhile If you're jealous If you're jealous Sulla coda di Smile rientriamo per gli ultimi 10 minuti di trasmissione con Claudio Che io sarei ad ascoltare per ore Ma non giudicatemi Io mi diverto a fare questo programma che si chiama Montini's in the House E cerco sempre di portarvi qualcuno che ritengo interessante Questa volta direi che l'esperimento è riuscito Arriviamo all'arte terapia che è un po' la fase finale del tuo percorso Finale a livello di step che poi sta durando e durerà ancora per molto immagino Sì 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 Allora l'arte terapia perché è così importante nella mia vita e anche nella mia professione Perché io ormai ho sviluppato questo metodo che attraverso l'arte terapia Mi aiuta a fare dei corsi di creazione Con i quali io poi accompagno Sono dei corsi di gruppo anche individuali Dove io poi sviluppo attraverso appunto l'arte terapia Dei numeri, dei personaggi E poi dopo ci sono vari passaggi chiaramente Arrivo alla regia di spettacoli Quindi non solo sto sul palco e faccio anche le corsi sul clown Ma mi sto anche a poco a poco dirigendo verso appunto la regia di alcuni spettacoli Non tutti perché non mi piace tantissimo fare regie Cioè lo faccio solo per alcune persone E quando sento che posso farlo Cioè che sento che mi fa piacere farlo Perché io devo avere sempre la sensazione Devo sempre essere connessa al piacere e alla bellezza Altrimenti è difficile che mi muovo Non lo faccio Quindi è proprio un processo di estrapolazione Attraverso l'arte terapia Noi esploriamo il nostro mondo interiore Facciamo dei viaggi bellissimi Sempre attraverso il gioco, i disegni E altri tipi di tecniche Andiamo a prendere e a conoscere delle nostre parti Le estrapoliamo E poi gli sviluppiamo queste parti come se fossero dei personaggi Ci stacchiamo dall'arte terapia E poi piano piano inizia il processo di creazione E poi di regia Quindi in questo senso sono riuscita a sviluppare questa metodologia E a sviluppare dei corsi particolari A parte quelli sui clown Anche dei corsi come per esempio Malefica Che praticamente faccio tutto un percorso con le donne Andiamo a conoscere le idee dell'oscurità La parte scura delle idee E quindi creiamo la nostra propria dea oscura Ci mettiamo in contatto con la nostra parte di ombra Che normalmente e culturalmente non è stata accettata E così diventiamo sempre più forti Adesso farò un corso proprio a Barcellona Al centro civico della Barcelloneta Mi hanno chiesto di fare proprio un modulo Di un mese e mezzo con un gruppo di donne Quindi sono molto contenta Perché sto facendo tantissimi lavori interessanti Come per esempio quello sulla poesia del clown Qui a Bologna Questo fine settimana passato Dove ho lavorato anche sul principio della fata turchina Quindi proprio Vabbè insomma Una grande varietà di personaggi bellissimi E i corsi durano In base a quanto decidi Cioè decidi tu quanto dura un corso? Dipende dal gruppo Allora ci sono corsi che durano due giorni Corsi che durano tre giorni E corsi che durano anche sei giorni Ho fatto un corso stupendo Sul buffone sacro A Bologna Però nelle montagne Quindi è stato bellissimo Perché quest'estate Perché abbiamo lavorato anche Durante la notte con le meditazioni Ma devo dire la verità È stato un corso stupendo Con creazione di personaggi vestiti Perché poi c'è anche la parte Dove si finisce per costruire E creare il proprio vestito Il costume In un rituale La biografia La storia Una canzone Guarda una cosa È un percorso meraviglioso Proprio bello bello Come le vedi le persone Quando iniziano E poi quando finiscono? Come le trovi? Cosa vedi di diverso in loro? Io vedo Una profonda Trasformazione Che certo Siccome io Non faccio marketing Nel senso che a me Non interessa vendere il prodotto Perché per il prodotto Ma io Insomma Voglio fare accompagnamento Di creatività Per le persone Io vedo Un processo Di trasformazione Profondo Grandissimo Che chiaramente Non è che vuol dire Che domani Tutto cambia Però è l'inizio È stato messo un seme Per il cambiamento È stato messo un seme Per il cambiamento Anche il ridere Per esempio Ecco perché Smile La canzone smile È molto importante Perché cosa ci dice? Ci dice che se noi Riusciamo A ridere Di cose Cioè su di noi In che senso? Ridere su di noi Vuol dire Osservare quello Che ci sta accadendo Sentirlo Accettarlo Che non è facile Per poi Osservarlo Quindi distanziarsene Poterci Ridere sopra E far ridere le persone Questo è un atto Che ha un potere curativo Così grande Che è quasi miracoloso Ed è l'inizio Del benessere Dello stare bene Quindi Cosa vedono le persone Quando finiscono i corsi? Vedo questo Questa coscienza Questa consapevolezza Che le cose Possono assumere Anche un diverso significato Se noi possiamo Mettere il seme Del sorriso In ogni cosa C'è sempre questa Possibilità Progetti e sogni Per il futuro? Sogni per il futuro Sogni per il futuro A parte continuare A fare i miei bellissimi corsi Pieni di fantasia Penso che Ecco La cosa che vorrei tantissimo È continuare a viaggiare Con i miei spettacoli Ne voglio Ne sto creando un altro Che si chiama Joker Nella Gorà Che è da strada Per uno spettacolo Da strada Comunque Anche qui Diciamo che Mentre gioco Parlo un po' Di questa società Del codice Del QR E così via Che non vorrei Che noi fossimo Sostituiti totalmente Da questo Quindi sto Creando questo Ultimo spettacolo Sto cercando E sto vendendo I miei spettacoli Quindi ho Un po' di viaggi Da fare Per questa Un po' di tour Da fare Con i miei spettacoli Poi c'ho un progetto Dentro di me Nel mio cuore Io penso Che ho fatto Un cambio Ed è questo Quello di essere clown Anche arte terapeuta E lo sarò Per sempre Perché per me Il naso rosso È proprio Il mio cuore È questo No? Però io sento pure Che c'è qualcos'altro Che mi aspetta Ora io non so Che cos'è Ma io sento Che ci sarà Un terzo cambio E non so Che cos'è però Ancora non lo so Lo scoprirò presto Questo sì Ti auguro Di scoprirlo Il prima possibile Di mettere Tutto in pratica Ora due Nozioni Per trovarti Dove ti troviamo Sul web Allora Sul web Beh a parte La mia pagina web Che è www.claudiacantone.com E poi Su facebook E su instagram Dove lì Potete vedere Tutte le attività Che svolgo E quello E i viaggi Gli spettacoli Che farò Perfetto Quindi mi trovate Grazie mille Grazie mille Claudia Siamo arrivati alla fine È stata una chiacchierata Fantastica Spero di Poter fare La seconda parte Non dico presto Quando sarà il momento Va benissimo Io sono sempre disponibile E chissà Che allora Potrò anche raccontarti Se ho raggiunto Il terzo cambio Della mia vita Vediamo Non so Me lo auguro E te lo auguro Soprattutto Grazie Grazie tanto Buona serata a tutti Grazie mille Grazie mille In bocca al lupo Per tutto Ci sentiamo Presto Spero E Niente In bocca al lupo Per tutto Grazie Grazie mille Ciao Grazie Claudia Grazie mille Bene Che dire È stata una Puntata Incredibile Per quel che mi riguarda Siamo andati un po' lunghi Abbiamo tagliato qualche canzone Ma secondo me Ne è valsa la pena Tra pochissimo Già Spic E noi ci sentiamo Settimana prossima Con Montino Is in the house Statemi bene Belli Ciao Grazie per essere stati In compagnia Del programma radiofonico Montino Is in the house Ci sentiamo Martedì Sempre su Radio Brown The Rocks Radio Brown The Rocks Tutta un'altra musica Grazie mille 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 Grazie mille